No, 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 no Bello a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati con un nuovo episodio della nostra carriera di autori con il Fulham Siamo nel vivo del torneo precampionato e siamo soprattutto nel vivo del mercato Abbiamo già fatto due ottimi acquisti del Manchester United, due giovani molto interessanti E adesso ho ampliato la lista del nostro hub mercato con tutti i vostri nomi Infatti se li vi ringrazio intanto tutti, veramente tutti per avermi dato tantissimi nomi, tantissimi consigli E spero di potervi accontentare il più possibile Abbiamo vari giocatori Un portiere che sicuramente dovremo andare a prendere visto che i nostri due portieri non sono certo da Premier League E dobbiamo puntare alla Premier League per il prossimo anno Quindi Gollini, Drommel, Meret e Gomis sono quattro buonissime opzioni Oltre a Farinez che avevo già messo nella lista E anche Zidane che è un bel giovane da poter far crescere Poi abbiamo i difensori centrali, dove abbiamo Gomez, già dello scorso episodio Poi abbiamo DHB, Mammana ed Elite Tutti e tre molti interessanti, per il momento abbiamo già preso un difensore centrale Quindi per il momento ci penso Tersini sinistri, Adnan, Chiluel, Mendy e basta E noi abbiamo tersini destri, ok Poi centrocampisti Cialobà, Locatelli, Roca Tra i centrocampisti difensivi Poi abbiamo tra gli esterni Pulisic e Musonda Poi centrocampisti centrali abbiamo De Jong, Frenkie De Jong Fofana dell'Udinese, Pineda e Tom Davis Dallo scorso episodio Esteri e sinistri abbiamo Kapuzka, Lukman, Barco, Kazri Poi abbiamo trequartisti, Foden, Vitigno che mi avete consigliato in molti Poi abbiamo Diaz del City Mentre gli ali d'attacco abbiamo Orsolini, Mayock, Kluivert, Odegaard e Rashica a destra Mentre a sinistra abbiamo Woodburn Gli attaccanti sono abbastanza E ci sono nomi solo anche Musa, ovviamente, Grey Sono baggatori ma non penso di riuscire a prenderli Visto che costranno molto Cassierra, Petagna, Petagnone Cutrone, Perizza Che purtroppo si è appena trasferito al Rosario central Quindi non lo potremo prendere Poi abbiamo Alconsog dallo scorso episodio E Mir Io vado avanti, aspetto quello che mi dice il mio osservatore Vediamo cosa possiamo fare Avanziamo fino alla prossima partita che è contro l'Antalya Sport Quindi con il primo turno di eliminazione diretta del torneo precampionato Guardiamo un pochino anche che squadra fare Intanto, offerte per prestito per Stephen Humphries Humphries è un giocatore che do volentieri in prestito Il nostro attaccante Allora, visto che vorrei concentrarmi soprattutto sul mercato Io tenderei a simulare questa partita Tanto un po' di soldi li abbiamo già presi da questo torneo Quindi giocherei con la formazione titolare Tanto nessuno mi ha chiesto di giocare Quindi andiamo avanti contro l'Antalya Sport in casa Tra virgolette Guardiamo un pochino cosa riusciamo a fare Nasri subito Eh vabbè, è una squadra di alto livello Intanto però Soares pareggia Dicevo Nasri, insomma, un bel giocatore Il Kabir è anche una squadra avversaria Bofin Abbiamo Bouton e Bofin Ma nessuno a Buffon Quindi 1-1 per il momento Cada E ai te subito pareggia ragazzi Usiamo il kick-off glitch Noi siamo dei baggati di merda Vai così, ancora 5 minuti alla fine Andremo probabilmente a supplementare 4-3 rigori No, diretto rigori Me l'ho sbagliato 4-3 rigori Quindi passiamo anche questo turno Grazie al computer Che insomma Simulando fa bene E contro il Cagliari Però penso di andare a giocarla Dai, contro il Cagliari Ci sta di giocarla Quindi abbiamo un altro milioncino 1.6 milione Non male, veramente Non male Io caricherei per il momento Gli stessi Della sessione precedente Poi metteremo anche i nostri Nuovi acquisti Sperando che salgano Quel Sessegnon ragazzi Voglio far diventare un 80 Deve salire tantissimo Sesse prende una buona B Come Sessegnon Gli altri prendono C Va bene Ci accontentiamo Torniamo sempre al nostro 4-3-2 Di contenimento Con Tuanzebe Rim Coppe di difessori centrali Sessegnon Odoi Anzi Sì, va bene Non vi ho fatto vedere Gli altri giocatori Perché ho cliccato X Per sbaglio Comunque In centrocampo abbiamo Johansen Coppe di Cici Abbiamo Gomes Che fa l'esordio con noi Insieme a Carney E poi A sinistra Abbiamo Chebano A Titi Fonte E poi Alla destra Abbiamo Camara Quindi sarà difficile Da contrastare Pavoletti Gioco in attacco Eccolo subito Pavoletti Non riusciamo nel contrasto Attenzione al tiro C'è la parata di Button Non volevo mettere in realtà L'altro portiere Però Pur per sbaglio Ho premuto X Senza spostarmi Su gestione squadra E quindi Sono andato in campo Con questa squadra Che Prende subito Gol di testa Qui nessuno Va a contrastare Di testa Un Mezzo pallonetto Da Posizione Nemmeno Tanto facile Di Ionita Quindi Buon per lui Ha fatto calcio Manco un gol Mi fa Ionita E qui subito ci segna Grazie Camara Camara per Fonte Fonte se ne può andare È solo Fonte super Andreoli bene Fonte col tiro Mamma mia che parata Finisce qua proprio il primo tempo Sempre sull'1-0 Ci abbiamo provato con Fonte Sul finale Ma È tosto sto cagliari Da bucare E Per il momento Lascio così la squadra Probabilmente nel secondo tempo Andrò a levare carne Che è un po' stanco Se ha gioco tutte le partite Ci sta Un po' di riposo Anche per lui Fonte Per Camara Camara Buono così la finta Buono ancora Camara Prova a fare tutto da solo Il tiro di Mancino Camara Che gol Secondo gol Tra l'altro Mentre guidavo io il Fulham Ha già segnato Nello scorso episodio E gran gol Qua di Camara Guardate qui Rientra qui bene Ball roll Tunnel Penso anche all'avversario E poi tiro a giro Sul secondo palo Palo gol C'è l'1-1 Mamma mia Che squadra Camara Mamma mia Scatenato Camara Vuole l'1-2 Lo riceve Camara Ancora lui Ancora Camara Prova a mettere in mezzo Bello il passaggio per Fonte Che prova l'appoggio Un po' debole Però Camara sta giocando Veramente la grande Io stavo pensando Di prendere una alla destra Titolare Per questa stagione Ma Camara Insomma Non vuole Cedere questo posto Perché per il momento Quando l'ho chiamato in casa Ha fatto bene Ancora piccola Nazione di Camara Camara Prova a mettere in mezzo Bello il passaggio È libero Qua il 2-1 Il 2-1 Attenzione Potrebbe essere Gomes Non ho visto bene No E se segnò Nel nostro terzino Giovanissimo Che va anche a segno Al settantesimo Ci portiamo a vantaggio Sul Cagliari Che insomma È una squadra di Serie A Noi una squadra di F E il Championship Ci stiamo comportando Più che bene Buono Ancora la palla recuperata Sono andati in bambola Sono in bambola Ancora Fonte Se ne va in velocità Fonte con il tiro La botta di Fonte Il 3-1 Subito immediato Altro gol per noi Rui Fonte Gran gol Gran botta Raffa non ci può fare niente Doppio vantaggio Mettiamo quasi al sicuro Non so se c'è la finale Dopo sto partita Però grande prestazione Forse questa è proprio la finale Secondo me dovrebbe essere proprio la finale Perché sono due gironi Ne passano due Quindi semifinale e finale Abbiamo vinto il torneo Il precampionato Mamma mia Che roba Manolo di Fonte Fonte per si se Vede sull'altra parte Sull'altra parte Piason Piason si avanza Piason con il tiro a giro Piason Segna anche lui Appena è entrato 4-1 ci aveva già provato Con un bel tiro a giro Di poco fuori Stavolta ha segnato Quindi Piason Può essere comunque Un giocatore da utilizzare In questa stagione Nonostante sia in prestito Ve lo ricordo E finisce qua La partita Con un altro 1 Quindi vittoria più che convincente Nonostante il primo tempo Un po' balbettante No ho schippato il trofeo Eh me ne sono dimenticato Che c'era il trofeo Vabbè comunque Abbiamo vinto il nostro primo trofeo Non è importante Quindi non è che Ve lo metto nel titolo O cose così Perché insomma Non è un trofeo importante Torneo per il campionato Però Abbiamo fatto vedere Di che passo siamo fatti Di che passo ha fatto questo Fulham Che è già secondo me Molto pronto Per l'EFL Championship Non so quanto per una Premier Nel prossimo anno Però Noi ci attrezzeremo Per giocarla Quindi Potrebbero essere arrivati Un po' di mail Sulla Soprattutto sul premio Sono altri 2 milioni e mezzo Sono molto contenti Ovviamente Di aver raggiunto Quindi la vittoria Rim Se vendiamo Madel Non lo cediamo Infatti Madel È stato venduto Quindi Rim Rifiuto l'offerta Perché Un difensore centrale In panchina serve Cioè Difensore centrale Abbiamo Jalot Rim Tuanzeb E Kalash Quindi solo 4 In teoria non sono tantissimi Poi a sinistra Ne abbiamo tanti giocatori Quindi non prenderei Un'ala sinistra Assolutamente Mentre prenderei Più probabilmente Un'ala destra Che noi ne abbiamo Un'esterno destra Un'ala destra di ruolo Serve assolutamente Insieme al portiere Non farei tanti altri acquisti Per il momento Visto che Siamo messi abbastanza bene Io aspetto ancora Delle informazioni Per questi giocatori Quindi avanzo E vediamo un pochino Cosa succede Tanto c'è ancora Tutto agosto Quindi Di tempo ce n'è Sono arrivati Dei resoconti Devo fare anche Gli allenamenti Tra l'altro Quindi stoppiamo qua Offerta per testo Per Kite Che dovrebbe essere Un nostro giovane Trequartista Che non utilizzeremo Assolutamente Infatti Un 58 Lo Diamo via Tranquillamente In presto Quindi ottimo Sono arrivati i resoconti Su Rashica Su Drommel Su Odegaard Su Cassiera Su De Jong Su De Ligt Su Kluivert Su Foden Su Gray Musa Solange Mendy Musonda Lukman Diaz Wodburn Insomma Tutti quelli Della Premier E della Divis Quindi Facciamo allenamenti E poi Andiamo A vedere Cosa Come muoverci Sul mercato Quindi Vi ricordo Andrei su un alla destra E su un portiere Salito Jalot A 68 Buono così Si stesse avvicino A 72 E che Bano Non vuole salire Quindi Lo leverò Se non sale Lo levo Metto Tuanzebe Ovviamente Gomes Che devo Allenare Assolutamente Quindi Andiamo all'ambercato E vediamo un pochino Come muoverci Allora Di portiere È arrivato Solo Su Drommel Che vale un milione Tra l'altro Ho anche una clausola Registra Di un milione e sette Quindi Non male È un 67 Però Da far crescere Però non da mettere i tolali In questa stagione Può essere comunque interessante Per il momento Lo lascio lì Io vorrei andare Sull'alle destre Quindi Muson dà 12 milioni Tanta roba Forse più da prendere in prestito Secondo me Visto che Nel Chelsea Non giocherà molto Però Per il momento Preferrei prendere Qualcuno a titolo definitivo Quindi Guardiamo un pochino Se Qualche Alla destra c'è Orsolini È in prestito Quindi Assolutamente no E Abra Mayock Purtroppo Si è appena trasferito Klyvert Costa Costa Ma è veramente buono Odegaard 9 milioni e mezzo Costa ancora di più Uno in più di overall Può fare anche il trequartista Rashica 10 milioni Però È un ottimo giocatore Pure lui Solange Musa Grey Cassiera Pietania Tutti attaccanti Che per il momento Non vorrei prendere Io direi Di spostarmi Su Klyvert Che è quello che costa Un pochino meno Stipende 8300 Potremmo farcela Anche se Non so quanto abbiamo Di budget Non abbiamo Proprio tantissimo Ce li abbiamo 7 milioni Ce li dovremmo avere Perché abbiamo Vinto il torneo Quindi io Contatterei per acquistare Un altro giovane Si vorrebbe aggiungere Però poi non ci rimarrebbero Molti soldi Quindi dovremmo Anche andare a vendere Un pochino Vediamo un pochino Guardiamo se Accettano un'offerta Del genere O se Ce la fanno Alzare La sticella Così ci rimarrebbero 5 milioni circa Per completare Il nostro mercato Con un bel portiere Guardiamo qui Nosa dicono 7 milioni e 6 Sono tanti Sono veramente tanti Più Una cosa Dell'11% Così va meglio Accettiamo questa offerta Per il prezzo del cartellino Dice del 7% Sulla futura rivendita Di Klyvert Va bene Accetto Tanto 7% È veramente poco Ha aumentato il 2% Quindi ottimo Paghiamo praticamente Il prezzo Il valore Di Klyvert 6 milioni e 9 Quindi adesso Andremo a trattare Con il nostro giocatore Cioè il nostro giocatore Ancora non è un nostro giocatore Quindi andiamo fino a Klyvert Dove cavolo sei Klyvert Eccolo qua Andiamo a trattare Quello stipendio Prendevo 8.300 Quindi Non vorrei alzarlo A più di 10.000 Questo stipendio Guardiamo un pochino Cosa ci dice Facciamo 11.000 E 130 E 130 Dai Guardiamo un pochino Cosa dicono È un po' troppo Per noi Non è ancora la cifra Che speravamo Voleva guadagnare 12.500 E ha aumentato Ha aumentato rispetto a prima Ma questo Questo asia Che guarda Mi sta un po' Sulle palle Ma adesso accetti per forza Adesso accetti per forza Non venire a dire Che non accettiamo Perché Veramente Veramente Mi altero Bisogna un po' di tempo Per riflettere Le faremo sapere a breve Ma sto bastardo ragazzi Sto asiatico Vabbè Le faremo sapere a breve Noi avanziamo Vediamo un pochino Per i portieri Io manderò sicuramente A seguire Un osservatore In Italia E poi cercherò Delle informazioni Sono rimasti Sul loro Vabbè Stipendio Ragazzi Cambia veramente poco Quindi accetto L'offerta 500 euro in più A settimana Non penso che cambiano Troppo Quindi Anche Clivert È un nostro Nuovo giocatore Abbiamo tre Nuovi giocatori Clivert Questo sondaggio Lo trovate qui In alto a destra Chi preferite Tra i tre Quindi tra Gomis Mere O Gollini E andrò a provare A trattare Con uno di questi tre Magari Se non abbiamo Abbastanza soldi Andremo a fare Uno scambio giocatori Andiamo un pochino Io avanzo Un altro pochino Per arrivare Al prossimo allenamento E poi stop Perché la trattativa Con il portiere La porterò Nel prossimo episodio Visto che probabilmente Sarà L'ultimo colpo Del nostro mercato Abbiamo piazzato Colpi un po' ovunque Io direi di prendere Per il momento I giocatori E andare con Un'idea Che mi ha lasciato Uno di voi Ovvero di Richiamare dal prestito Sigurdsson Per questa stagione E poi venderlo La prossima Che può essere buono Per averlo in panchina Quindi Andremo a vedere Un pochino Alla fine del mercato Cosa succede Se no Mi prenderò anche Un giocatore Magari giovane O sempre in prestito Da poter prendere Per aumentare Un pochino Infoltire Un pochino La rosa Intanto è arrivata Un'offerta Per David Button Che però Per me È inaccettabile Al momento Io La rifiuto Nonostante abbia 28 anni Lo so Però ragazzi Button è il portiere Titolare del Fulham E non voglio privarmene Finché Almeno finché Non arriva Un nuovo portiere Andrei a fare Quindi gli allenamenti Però Cambierei un po' Di giocatori Visto che Jalot è salito Andrei A mettere L'altro Difensore centrale Ovvero Tuanzebe Da allenare In difesa avanzata E poi mettere anche Gomes Per qualcuno Però aspetto Qualcun altro Che salga E poi lo sostituirò Quindi andiamo A vedere se sale qualcuno No Non sale nessuno Tutti prendono Delle B A parte Chebano Che ragazzi Non vuole salire Io lo levo Alla prossima Veramente Quindi faccio vedere Un pochino La rosa Che ora è cambiata Visto che Chebano A posto di Chebano Andremo a mettere Klyvert Molto probabilmente Chebano Andrà in panchina Magari al posto Per il momento Di Piasonna Visto che è in prestito Camarà Ottimo Veramente ottimo In questo Precampionato Quindi lo utilizzerò Molto Alternando con Klyvert A destra Mentre a sinistra Avrò Mollo Chebano Magari Lo sfrutterò Più come punta Insieme a Fonte A centrocampo Abbiamo Johans In carne McDonald Poi abbiamo Sissè E poi abbiamo Anche Gomes Dove sei? Eccolo qua Gomes Porterei qua su Insieme a Sessagnon Che sono giocatori Per me importanti Eppure Piasonna Gli altri Sinceramente Li vedo poco Però comunque Aumentano Il numero Della rose Quindi Va bene così Insomma Sono giovani Che potremmo anche Sfruttare Durante la stagione Ovviamente Aspettiamo anche Reso conto Dalla primavera Per prenderci Un portiere Bettinelli Però E Button Non sono Secondo me Dei portieri titolari Quindi Serve a un portiere titolare Secondo me Abbiamo fatto un buon lavoro Non abbiamo stravolto la rosa Non ce n'era bisogna Assolutamente Ma ho preso Quei due Per il momento Tre colpi Che fanno bene Soprattutto per il futuro Giovani Già Quasi pronti Cioè pronti Per l'EFL Championship Non pronti per la Premier Ma li faremo diventare Quindi Come vi ho detto Nel prossimo episodio Andremo a cercare Di prendere uno Di questi tre portieri Adesso vi faccio vedere Gollini Meret Ogomisch Se non riusciamo A prendere nessuno Ricadiamo su Drommel Che comunque Con un milione Ce la dovremmo prendere Vent'anni Crescerà molto Quindi Sicuramente Magari se non parte Subito i titolari Lo sarà Magari da metà stagione Vi invito a lasciare Un bel mi piace Cerchiamo di arrivare Come sempre A 150 mi piace Vi iscrivete al canale Se ancora avete fatto E vi ricordo come sempre Be yourself Stay ignorant E vi ricordo come sempre E vi ricordo come sempre E vi ricordo come sempre